bello a tutti ragazzi da sopra tutto tregoci qua su pcb di insimoletta ragazzi è un botto che ne ho portavo volevo portarlo con voi in live ma praticamente il gioco adesso l'ho reinstallato perché mi laggava ragazzi cioè adesso mi ha tirato un due botto di lag ma adesso sto guardando il mio studio della Republic of Gamers Republic of Gamers sto guardando che sembra tutto ok e mi ha tratto due laggate ma ci sta ragazzi voglio portarlo in live ma vi faccio un gameplay ragazzi quindi andiamo a fare io non mi ricordo manco ragazzi mi ricordo che oggi comunque è anche cacchio i social ragazzi ragazzi i social mi ricordo vi spammo tutti i social ragazzi guardate il tubo rosso il tubo viola il tubo azzurro il tubo instagram il tubo tiktok il tubo telegram ragazzi il tubo reddit il tubo steam il tubo epic games il tubo xbox ragazzi vi ricordo che su tiktok sono sample.83 tutto attaccato tutto così come scritto gg ragazzi e ritorniamo con le ragazze allora oggi è sabato ragazzi sono sempre al lavoro quindi pomeriggio niente live di sera invece sarò off camera ragazzi quindi importante nelle pagine info di canale trovate tutti i miei links per tutto ragazzi insomma ritorniamo a fare i nostri ordini e questo però non mi ricordavo è raga e vedete che ha tratto una botticella del lag questo penso che l'hanno aggiunto raga io non mi ricordavo è comunque 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 dov'è qua andiamo adesso un po di email anzi cambiamo subito lo sfondo questo qua fort fight parigi io di solito avevo ma li hanno aggiunti a sin hanno aggiunti raga ne hanno aggiunti un voto soccar questo c'è qualcuno che sono sicuro che ci si triggera è tipo un rocket league ma ma si dissocia ok ragazzi vediamo su pc base avevo qualcosa da buiare no e da sellare invece auto collect ok 518 perfetto sono tutti pc che avevo fatto ragazzi infatti con gli scarti e messo lì vabbè comunque gg email andiamo a vedere che succede io dei live che chi se ne frega discard per 20.000 porco schifo e non ce li ho è niente bionna dormì allora il trucco è ragazzi spegnere le luce andare a dormire così live non devo fa niente back to the office and dei ragazzi via adesso me la guerra sicuro che cacchio è successo e cacchio è successo ancora go to walk andiamo su go to walk andiamo al walk ragazzi buona walk e ragazzi allora cacchio devo spegnere il pc vabbè chi se ne frega pc de ma che cacchio me ne frega new pc wanted no 3d mark overclock col cacchio che te lo faccio diagnosi fix ok a cacchio qui non c'è un cacchio da favore oggi aspetti sono arrivate dei pc no allora allora a no spesso prendiamo su pc bay è sicuro dobbiamo vedere bui 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 allora questo è solo il case questo mobiglio che è buono non si sa mai pure sta ventolina ma piglio che è buona perché non vi lo posso sempre mettere pure questa dai eppure pure questa dai vediamo se riusciamo a farsi un pc c'è dall'inventario se c'ho no components pick up vediamo se c'ho dei cacchio dei pc da possiamo farcene uno vediamo un po insomma ricordo come si fa è a sì qua dobbiamo andare su install però bisogna mettere fit on this pc ok vediamo un motherboard perfetto click e batte ne vai di nuovo nel storage allora mettiamoci in un altro questo sembra abbastanza buono amo questo amo che pigliamo questo amo questa è la postazione qua giù la postazione bildone quell'altra due sono per riparare allora vediamo un po se c'è sta qualcosa questa è una m4 ne ho un botto e però il processore ne odia è perfetto ok gg ragazzi non mancano i processori quindi se li vedo li devo pigliare se il remove manca un giorno 1790 gg ragazzi ok niente non c'abbiamo da fa niente perfetto e non c'abbiamo da fa niente schippiamo giorno schippiamo terror delivery di agno a si me manca l'email ragazzi devo leggerla bene devo capire che cacchio è successo ferma lì sì ma se non accendo la luce ragazzi è bello però il mio studio è bello il mio studio è della ok questo qua il mio pc da lavoro ovviamente è un pc mega hyper e va bene e quindi di agno sen fix ok level 11 ce l'ho requesting quattro stelle io ho famo io ho famo anche una build dai io ho famo pure una build se lui vuole seagate number one priority ok allora il bildone andiamo a metterlo qua il bildone lo mettiamo qua lo mettiamo qua e adesso andiamo a fixare vediamo nel sito che cacchio nell'e-mail che cacchio aveva questo qua allora margis brock in grano e noi dove vuole se capo a cacchia ai 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 as rock lui vuole asero che quindi so già che cos'è cacchiarola allora è mogwa e mogwa aspetta vediamo un po che cosa mi dice non sa piccia proprio ok è questo sicuro lo dico io e dai ok psu andiamo a vedere su power supply e no è suo ce l'ha porco schifo ma sta dire che la scheda madre non sta a dirmi che la scheda madre cable no che buono stamattina grigi quale ce l'avevo di gialli eccoli qua mannaggia mannaggia ne sa che la scheda madre ragazza raga mannaggia 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 as rock lui vuole l'asero che era giocava ragazzi lo dico io tutto quello che bisogna tirare via è tutto tutto e aseroxia allora tu vuoi as rock me pare no ah lui praticamente li ha gettato ok aseroxia quindi è la scheda madre che è andata a questo total as rock fanboy ok fanboy as rock perfetto che cacchio di cosa c'ha fammi vedere mannaggia però è install vediamo un po cpu processor allora lg a coffee lake ok quindi aspetta andiamo a vedere sulla scheda madre è sicuro quella ragazzi è sicuro questa motherboard eccola qua as rock non c'era una io buona as rock no non non ce l'ho la phantom gaming dove ok fatto che minore ok as rock andiamo a vedere la phantom gaming 9 e tocca pigliarla scioppone motherboard as rock fatto che min 9 as rock coffee lake micro tx non me ne frega as rock rock e questo chips a 390 4.266 4.300 questa è buona raga 4.300 o se no io va bene questa min cacchio è questa ancora più buona questa ragazzi iniziali di installo una scheda madre ancora più buona sempre i delivery costa 100 euro in più o regà però purtroppo questa questa riserve do cacchio è la roba che arriva che non mi ricordo acqua nell'angolo qui 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 che cacchio ok gliela mettiamo subito allora install motherboard eccola qua as rock allora differenza è che rimettiamo una reggb z 390 50 coffee lake ram ddr4 4.266 mettono a 4.300 ragazzi questa è più buona a questa vendiamo e questa gli ammontiamo di ma che te va bene è cacchiarola che cacchiarola a voi vedere a parte che dovrei metterlo qua nel secondo fare tecniche il tecnicial ok open mettiamo la cpu la pasta dissipatore questo è il suo ok questo qua perfetto la pasta questa l'hard disk è suo sì la scheda video la scheda video e poi vediamo un po se riusciamo la scheda video dove grafica se quella qua questa è la sua si moto la rimetto e power supply questo il tuo con i cavi gialli che mi hai richiesto tu ma vediamo se si no ma dovrebbe appicciarsi perché scusa e amore si on settings apri change e restart yes ok perfetto è arrivato come gianni ma come inferiore il modo del bonus tale ma stupido cacchiarola ma stupido di questi è però è perché perché inferi modo del bonus tale che non è vero neanche se vuoi e poi vuoi quella vita te metto quella lì se vuoi prendertela nel di dietro siete piace te piace io non ti dico niente ti facevo l'affare a stesso prezzo e non vuoi e vabbè te la pigli e sto zitto che è meglio inferior ma te vado io un inferior ma dai però dimmi tu se non è vero dimmi tu se non è vero questo vuole questo vuole questo vuole questo ma sinceramente è vero costa di più quindi stavo scammando sì però la ram scusa è questa è la frequenza della ram a 4.300 chipset z 390 chip 0 390 la ram e 24002 ma che cacchio sta di vabbè vuoi questo è pigliate questo vuol dire che se vuoi questo vuoi questo vabbè se il gioco è anche scemo che è che non ci guadagnerò niente perché raga è perché ma mi ha fregato capito aspetta che qua non vorrei che ma no no questo no no questo c'è sta questo no 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 vabbè model board e ammettiamo qual'era 4266 vedete ragazzi costa di meno cioè farà più vabbè lui vuole questa ieri metto contento lui e mo me lo da pure buono vedi eh vabbè raga che vedevo di che vedevo di raga che vedevo di contento lui sinceramente però non è giusto ragazzi perché perché no 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 fermo lì fermo lì il processore non c'è sta ragazzi per me non ha senso perché adesso spiegatemi perché quella lì è inferiore lo spieghi che si fa me ne frega dove cacchio è si più cooling eccolo qua sì così perfetto graficarsi ripigliatela e power supply ah ma c'era ok c'era già è buono è che ti faccio l'overco così impari perfetto che si parto e basta però è che scemo che sono speriamo che riesco a metterla eh ti pareva naia ma naia ma naia ma naia PCI lock eccolo qua oppure da qua mo te lo metto e ti piazzo questo fatto pick up e sgancia i sordi ma che ha adesso questo ah gli mancherà una mascherina vediamo un po' si mannaggia ma ogni volta questo computer no che cacchio ha che non va missing cable ah scusa mannaggia però eh cacchio ha che non va questo si eh mo torna lì vabbè ma prima andava place in delivery area questo qui te e sgancia i sordi 5 stelle ho 513 euro ci ho guadagnato vabbè new build ok mi run sub sim x cacchio è sub sim x allora lui vuole seagate 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 vabbè questo discardiamo discardiamo eh questo pay 20.000 lo che non ce li avro mai ehm di anni fix in transit sub with it run sub mi che si chiama sub sim x allora ram 32 giga 8 giga di porco schifo i7 RTX 2070 che ha la faccia del cacchio alla faccia del cacchio seagate ok non penso che la seagate faccia anche il case non penso se ok ecco allora abc andiamo a cercare seagate che stupido sono questi qua adatta è adatto proprio corsair insomma ricordo seagate dovrebbe essere gskill seagate seagate pqr pqr oh e dai oh team group rst mamma mia oh press filtri manufacturer oh no mortoni ok no 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 seagate che cacchio è motherboards sta a dimmi che è lui manufacturer seagate non poi biannaggia con internet seagate seagate allora impariamo tanto un case un buon case ragazze vediamo un po christ christ domini che cacchio non avevo piglio il mini obsidian corsair car bridge etx minatex che è sta roba qua mid tower questo black red bello mi piace mi piace mi piace allora l'abbia detto una 2070 vuole power supreme vabbè quelle ce le ho storage io piazziamo seagate da 4 terabyte lo piazziamo questo poi emettiamo pure questo qua uno così tanto che volo si chiede le mettiamo pure questo forse prezzano graphic cards ci serve una dal prezzo descending descending da 2080 9 il cacchio una 2070 detto che c'è basta 1039 50 1030 gli viaggio questo io e la ram ci servono 32 giga aspetta e 34 mila e vabbè 32 giga mi inizia o 450 non posso mettere 32 giga 16 giga eccola qua serie c4 mila c'è sta un hyper x di dire qua 3.700 4.000 dai c'è sta gli piaccio due così 16 16 32 storage e l'ho preso nostro region me ne frega che vuol che skis fans e lotto nel software non me ne frega niente si più cooling ce l'avrò vabbè ce l'avrò dai 1960 e la scheda ma il processore che stupido i7 io piazzo un i9 questo qui però coffee lake perfetto aspetta 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 as rock dov'è 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 lasero lo cacchio era eccolo qua 11 51 so che te leggi a 11 51 vediamo un po so che te leggi a 11 51 so che te leggi a 11 51 so che te leggi a è perfetto questo ci va da dio perfetto 2006 90 view card mom e farci arrivato tutto adesso no che stupido cosa ho tolto adesso che cacchio tolto mannaggia però è chi so ricorda il case c'è la ram c'è la scheda madre il processore manca mamma mia o è che cacchio 7 se ne avevo 9 2006 90 vabbè same day delivery questo io spero ragazzi questo qua quanto è 4.500 c'è stia ci sta ci sta allora è perfetto allora montiamolo subito ragazzi è così sì ok montiamo tutto allora scheda madre ce l'abbiamo per il case ce l'abbiamo che è questo quello qua almeno non mi confondo io spero solo che ci stia tutto te prego fama che c'è sta tutto ok allora e motherboard as rock phantom gaming 6 gaming 6 ok perfetto c'è sta apri questo e gli infiliamo dentro un storage uno di questi e via poi gli infiliamo il seagate da 4 terabyte via 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 questo 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 oh 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 ok poi scheda graffi io spero che tanto c'ho già che non ci ha beccato graphic cards questa e te pareva 3 slot becca serio 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 che cacchio di roba è allora graphic cards questa questa processore 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 eccolo qua questo qua ci va da dio perfetto ogni 9 pasta termica questa poi me serve questo 121 e 2 poi mettiamo memory lo cacchio sta questa qua 16 e 16 cpu cooling dove uno cacchio è quello nuovo che ho pigliato vabbè io piazzo questo rgb eccolo guardate pareva assieme a che stupido se me lo chiudi per noi già chiuso allora come cacchio mamma mia oh questo non ci sarà mai questo è buono dimmi che c'è sta perfetto ok questo è buono 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 buon alimentatore adesso ragazzi per power supply 850 850 850 si e basta 850 come complete che allora innanzitutto aspetta è tool software mettiamo c'è questo mettiamo c'è questo e appicciamo via fermo 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 ok vabbè ok lo fa lo fa lo fa perfetto stoppa te e chi se ne frega del coso pc parts allora questo toccacchio è side panel top panel questo questo è questo place in delivery area sgancio i sordi raga ti prego dammi dammi 5 stelle grazie ma ci ho guadagnato un cacchio raga 346 tolte 100 euro di spedizione new parts 3000 no 2006 perché new parts ah perché c'era la scheda si 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 la scheda ce l'avevo già 47 ma io non ce la farò mai arrivare su quei soldi raga ah devo andare a vendere pure il coso pc bay andammo a vendere col col via oh 17 mila raga e i soldi vanno su e i soldi vanno su ragazzi vedo che il tempo è volato ragazzi spero che questo nuovo gameplay vi è piaciuto ragazzi come sempre quindi grazie mille per essere con me come sempre commentate scrivete un piaccio ragazzi ci vanno noi prossimo domani domenica ragazzi ciao gg ragazzi ciao buona serata a tutti buon pomeriggio buon sabato a tutti ciao medici ciao 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 Grazie a tutti.